In occasione della giornata mondiale dei diritti umani, promossa dal coordinamento delle lotte austerity, i rappresentanti del CUB, la Confederazione Unitaria di Base Provinciale di Caltanistetta e del Partito di Alternativa Comunista, sezione italiana della LIT Quarta Internazionale, sono scesi in piazza Garibaldi per dire no con forza e determinazione ad ogni forma di negazione dei diritti umani. Diciamo che più che nascere questa idea si ingloba all'interno di un progetto preciso che il nostro partito porta avanti ormai da anni, dal 2006 all'incirca. Il progetto è quello di un partito comunista, nel senso più puro del termine, che si propone un'apertura a una realtà, a una società realmente socialista, nella quale le differenze siano semplicemente un ricordo. Noi in particolare a Caltanistetta lottiamo contro l'indifferenza che purtroppo sovrasta la popolazione nei riguardi dei migranti che sono numerosissimi nella nostra città e che purtroppo vivono in condizioni di assoluta precarietà, soprattutto quelli circa 200 che si trovano all'esterno del centro di accoglienza, in condizioni che definire disumane significa definirlo un eufemismo. In realtà vivono peggio delle bestie. Noi da circa un anno lottiamo quasi quotidianamente nei confronti di tutti i muri che le istituzioni pongono davanti alla volontà di dare una reale mano a queste persone. Diciamo che rivendichiamo il diritto di appartenere perché pensiamo che esista solo una razza, e cioè quella umana, e che esista soltanto un diritto, quello di esistere. Noi abbiamo colto come Confederazione Notaria di Base l'appello lanciato da Novo Esterite che è un coordinamento di lotta nazionale, praticamente è un coordinamento di diverse tipologie di lotta e noi come Confederazione Notaria di Base che principalmente qui stasera da questo umile palchetto lanciamo un appello sul diritto principalmente all'acqua, al diniego dell'aumento delle tariffe idriche del 15% che è stato varato l'altro giorno, beffeggiando un referendum, il secondo quesito referendare, il 106, è ratificato col decreto del Presidente della Repubblica 116 del 2012. Noi questa sera vogliamo essere chiari con la cittadinanza, dobbiamo riprenderci il nostro diritto a vivere l'esistente perché le banche, il potere borghese aristocratico ci attanaglia, ci soffoca, le proteste anche che sono in atto in Italia lo dimostrano, diverse lotte, gente derisa, mortificata, gente che si suicida. Noi oggi diciamo, lanciamo un appello a tutti i nostri concittadini di dire la nostra, noi vogliamo contare in questa società.